Hi people of YouTube, welcome back to an episode of Prototype, a parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo finalmente scoperto chi è l'uomo misterioso dietro alle telefonate E abbiamo fatto un po' di pulizia di elicotteri cercando di scoprire dove si nascondeva quella persona che non doveva scappare dall'isola Quindi oggi vediamo, 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 l'obiettivo è di là ed è due biglietti E allora andiamo, vediamo quindi qual è la nostra prossima missione L'altra volta mi sono sbagliato neanche di troppo, però pensavo fossimo già alla fine del gioco Ci mancheranno un paio di missioni ancora probabilmente Questa e forse un'altra, altre due, chi si ricorda? L'importante è mangiare, poi il resto viene da sé, giusto? Allora, da questa parte E io punterei uno già a essere soldato, ma per avvicinarci senza destare troppi sospetti, non per altro Usa il carro o un lanciarazzi per attaccare la base Sai che novità Allora, mi serve un carro armato, giusto? Entriamoci prima che mi sgamino troppo tardi Vai, 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 ho sbagliato Dove sei? Via, vai, via Ho visto uno, esatto, col lanciarazzi Adesso dovrei riuscire a farcela Vai, 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 vai Perfetto Sì, ci abbiamo messo fin troppo, effettivamente Non avevo tenuto conto Della possibilità Che ci fossero i... I come si chiama Questi qua, insomma Ma quant'anti ci vuole? Quanta vita hanno sti cosi? Oh, e finalmente uno l'abbiamo tolto Mi servirebbe... Un lanciarazzi, forse O perlomeno un altro carro armato Se non fosse che ce ne sono Forse anche fin troppi di carri armati in questo momento qui Ok Io penso che dovrei scappare O almeno mangiare qualcuno Allora, nascondiamoci un secondo Vediamo se ce la facciamo Non con questo Va bene Uh, lanciarazzi L'ho visto, l'ho visto Prendilo Perfetto Ok Dai che ci siamo Dai che ci siamo Ho consumato per niente un razzo Ok Ok Ho bisogno di mangiare ora Ecco, fatto Ho bisogno di un altro lanciarazzi O di un carro armato Che sarebbe Anche meglio Dai che ci siamo Dai che ci siamo Non mi sparate Non mi sparate Non mi sparate Per favore Perfetto Che bello che quando fa l'animazione Siamo immortali Dannazione Oh E finalmente la base è andata Eccoti qua Ciccio bello Con il carro armato figo E tagliategli le gambe Vai 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 Sta scappando in seguilo Minchia Noi eravamo girati a tutt'altra parte E' in avanzata lui Dobbiamo muoverci Dobbiamo muoverci Nonostante comunque Stiamo andando abbastanza veloce Vai 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 Giustamente nelle curve Un carro armato Non è che può fare miracoli Dai che ci fanno saltare in aria Può usare il cannone Allora fermi tutti Bene Buoni tutti Sbrigati sbrigati No dai Una porca miseria Dai che palle Avrei dovuto usare I tentacoli qua Avrei dovuto fare un po' di piazza pulita Mi sono fatto prendere Dalla sgargiullita E ho voluto Cercare di entrare subito Non ce l'avremmo mai fatta Me ne rendo conto ora Ora sono uscito Come soldato Quindi dovrei No Sono uscito come civile Non è quello che sarebbe dovuto succedere Ma Ehi Ciao Allora Usiamo questo Torniamo Incorazzata Non vedo Troppo fumo No No Porca troia Gli ha tirato un cazzottone estremo E mi è esploso il carro armato Ma che palle Madonna mia Avete rotto le scatole Avete rotto le scatole Stupido Stupido Via questo giro Allora Allora Aspetta Dammi La Mangia Via 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 Ho tolto l'armatura per andare un po' più veloce Ma mi sa che Mi conviene rivelterla Mangia Tanto i soldati mi stanno continuando a seguire Non c'è nulla di nuovo insomma Ho sbagliato Non dovevo schiacciare cerchio Ho sbagliato io perché ho schiacciato cerchio Io volevo prendere Ah un civile per mangiarlo Che stupido Dannazione Eh lo so che devo inseguirlo Cacchio Sono stato stupido Ho schiacciato cerchio per sbaglio io Ho schiacciato cerchio per sbaglio Non vedo Ok Io vorrei salirgli sopra Come ho fatto Per le altre missioni In questo modo dovrei riuscire A farcela no? Ecco qua Lo scudo è andato Rimettiamoci l'armatura che è tanto meglio A parte i missili che purtroppo Sono un filo difficili da Evitare L'idea di salire sul carro armato non è male A parte appunto Come dicevo Evitare i missili Ma quello Purtroppo È una considerazione Che dobbiamo continuare a tenere in testa Rimettiamo La lama Non vedo Non vedo perché il gioco è deficiente Finchè mi nascondo dietro gli altri carri armati non mi posso neanche colpire Quindi Sai cosa dovrei Dicevo Dovrei consumare qualche punticino extra Per potenziare la lama Vediamo se abbiamo abbastanza punti Vorrei prendere la frenesia della lama Ma non abbiamo abbastanza punti Quindi per il momento Ciuccia Ecco fatto Grazie Cyberpunk di esserti aggiornato Nonostante io Probabilmente non ti userò più su console Però grazie del pensiero Oh Lancia missili Questo Mio Vai 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 Lo so che è Un po' difficile usare L'armatura e Gli scatti aerei Ma non voglio buttare via questo lanciarazzi Dai col cavolo che stavolta Esplodiamo No Io Resto qui Tanto se bersagliano il carro armato A me che mi frega L'importante è che non bersagliano me Guardalo Guardalo che danno che stanno facendo Stanno distruggendo una città per cosa Ti sta bene Scemo Prossima volta impari Dai su che tanto adesso arriva Arrivano altri carri armati Quanto ci fai Tu non ti Madonna mia Tu non ti bloccare per favore Carro armato danneggiato pure Ok forse Dicevo Beccatelo Ok vediamo se riusciamo a fare qualcosa Tipo a liberarci di C'è un tizio della trama degli intrighi E tra l'altro ho bisogno di mangiare Quindi Tanto vale fare due cose in uno Vieni qui Perfetto Ogni tanto va bene anche mangiare Ma devo saltare il filmato Mi dispiace Allora vieni qui Merda Allora fermi tutti Mettiamo questo Dio mio Mangia Io Me ne resto qui nascosto E intanto mangio E' la tattica migliore Che mi è venuta in mente Per il momento Uh Lancia razzi Ma scusami Che fine hanno fatto gli altri carri armati Ce ne erano Cinque Che fine hanno fatto Scusami Si sono distrutti a vicenda Si sono distrutti a vicenza Meccatelo Eccolo là Il ponte di Bruni Consumalo adesso Eh ho capito Se me lo fate fare volentieri Merda Oh wait Perfetto Ma che poi scusami Ma perché non avrei dovuto consumarlo prima Il senso di questa missione Non c'era Veramente Perfetto Perfetto Il senso di questa missione E' che non solo questa tizia Per prendere l'aspetto Ma scusami Lo potevamo affrontare subito Perfetto 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 Non riportare il culo sul campo di battaglia Perfetto 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 Missione completata A parte quei due fallimenti Che Ok Ho sbagliato io Che pensavo di Dover rubare effettivamente Il carro armato Per il resto Non è stato niente di difficile Sono nato E poi Sono diventato pronto Eccoci Forse siamo alla missione finale Perfetto